Ammazzarlo? Mi sacrificano solo due braccia e una buona sparda! Il nord ci crolla addosso. Una torre da incubo si erge a Nurnen. Il senza nome ritorna. Madre, prendi. Grazie, figlia mia. Queste visioni ti augurano e le poche medicine rimaste vanno esaurendosi. Le mie visioni sono la speranza di Nurnen. Se devo sacrificarmi per il mio popolo, lo farò. Madre, cos'è successo nelle montagne grigie? Cosa è successo, Litariel? Ho trovato la forza che ci serve. A cosa servono tutte queste provvinte? Le informazioni possono essere pericolose. Spesso, la differenza tra veleno e medicina è tutta nelle quantità. È successo lo stesso anche all'avamposto in cui ero prima. Avrebbero dovuto fare attenzione e guardare in alto... Ecco, prendi. Voglio che ci sia sempre qualcuno a vegliare sulla regina Marwen. Ho paura che possa fare del male a se stessa. Ora vai. Madre, che ti succede? Questo dono vale davvero il prezzo che stai pagando? La fine dell'oscurità vale qualsiasi prezzo. Questo è lo spirito di Nurnen, Litariel. Nurnen ha bisogno di te, madre. Queste visioni non sono così utili da giustificare la tua morte. E invece sì, figlia mia. Ho visto il creatore degli anelli, Celebrimbor. È solo attraverso di lui che Nurnen potrà essere salvato. Ascolta bene. Sentirai il suono di Centauruk. Questa terra è verde e riguigliosa. Coddi più o meno addosso. Ma anche malata. Le acque sono amare e le creature che le abitano sono ripugnanti. Ciò nonostante, alimenteranno la macchina da guerra di Sauron. Hai sentito anche tu? L'ha visto! Credi di potermi uccidere? Nicaragor, sono molto irrepieti. Che strano. Ci hanno detto i loro nomi tantissime volte. Ma li abbiamo dimenticati. Nessuno di noi li ricorda. Come se non volessero farceli ricordare. Dopo un po'. Erano semplicemente i due istari. Quello alto e quello piccolo. Non so perché non lo ricordo. Ricordo il grosso che ci raccontava storie di una città dei Goblin. Di un uomo che si trasformava in orso. Della volta in cui... Della volta in cui... Dando conto di qualcosa. Quegli stregoni, gli istari. Cosa sai di loro? Sono più potenti di te? Non li ho ancora mai affrontati. Saruman il Bianco è il capo del Bianco Consiglio. Conosce a fondo gli anelli del potere. Che... Glob spaticati. Continua ad affilare. La tua ascia deve essere così tagliente da segare in due un pelo della tua barba. Ehi, è abbastanza tagliente da uccidere un Graug. Su, dammi la pipa. Non è questione di abbastanza, fratellino. Devi imparare a rispettare la caccia. Serve una lama affilata per un taglio deciso. Se non rispettiamo l'animale, siamo peggio degli orchi. Ora facciamo una prova. Per Dorin, mi devi avvertire prima di strapparmi i peli della barba. Guarda qui, Torbin. Spacca il capello in due. C'è ancora speranza per te. Quel nano non conosce paura. Non so se percoraggio lo stupidità. O entrambi. Non teme la morte. Ma vi sono cose ben peggiori in agguato a Mordor. Non so se percorro. È buona, una moneta del regno. Sì, ma del regno di Gondor. Se non la vuoi. Non ho detto questo, capitano. Ma che ne dici di un po' meno di queste monete e un po' più di quel tessuto elfico che hai portato dalle Region? Credo che si possa fare. Le ricchezze non salveranno Gondor. Agli Uruk non interessano i Ninnoli. Sauron userà l'oro per comprare alleati nei Regni degli Uomini. Ecco, è finito. Che capolavoro, che intaglio. Sul davanti ho inciso noi che uccidiamo questo Mumak. E sul retro, la nostra prossima preda. Il possente Graug. È per una bestia come quella che saremo ricordati. Fammelo vedere. Non è magnifico? Quanta cura nei dettagli. Questo sono io che colpisco il bestione. Sangue ovunque. E perché io invece sto scappando a gambe levate dal Mumak? È una licenza poetica, fratellino. Se vuoi essere l'eroe della storia, la prossima volta fallo tu, l'intaglio. Questo Torvin non sembra conoscere i propri limiti. Non è tipo da attendere che arrivi la morte. Le corre incontro. Maledetti. Hanno preso tutto il gruppo di incursione. E la bandiera. Vedi le ragnatele? Sono ragni. Creature orrende. Probabilmente vengono dalla valle a sud. Dovremmo ripulirla. Chiudi quella boccaccia. Nessuno torna da quel posto. Chissà se lavorano per Shelob. Un tempo Sauron la sfamava. Ma credo che non ricordi chi è il suo padrone. Forse dovremmo ricordarglielo. I ragni spuntano dalle pareti. Hanno un aspetto malvagio. I figli di Ungoliant divorano la luce spinti da una fame insaziabile.